e ciao ragazzi sono la tec e benvenuti in questo nuovissimo video del canale in questo video andiamo a vedere come sbloccare gratuitamente la skin harley queen rinata all'interno di fornite e la skin batman punto zero ma prima di iniziare il video come sempre vi voglio ricordare che se volete appunto vincere skin o pass battaglia e basse la sigla vai al canale lasciare mi piace e venire nelle mie live che si terranno ogni sabato l'ora 20 all'ora 21 ma detto questo iniziamo appunto subito con il video esatto è stata ufficialmente annunciata presamente ieri la novissima collaborazione di fornite per fornite punto zero appunto però attenzione che non è man performe ma è fornite per batman infatti all'interno di fornite verranno aggiunte due skin tra cui la skin harley queen rinata e la skin batman punto zero e verrà lanciata una nuova serie appunto di fumetti in cui batman esplorerà la mappa di fornite quindi davvero tantissime tantissime novità che appunto ci permetteranno di sbloccare un sacco di skin in maniera completamente gratuita e questo viene un punto di vedere come ottenere queste skin grazie appunto a questi fumetti questi fumetti ovviamente verranno inserite quelle prossime settimane però sappiamo anche ufficialmente il prezzo la data riuscita infatti questi fumetti andiamo subito a leggere verranno inseriti ufficialmente all'interno di fornite il 20 aprile infatti il primo fumetto si darà il 20 aprile è tutta una collezione di sei fumetti quindi probabilmente durerà per due mesi questa collezione e appunto ci permetteranno di sbloccare gratuitamente queste due skin appunto per sbloccare la skin di harley queen e batman dovremo inserire dei codici all'interno del negozio di fornite che troveremo acquistando questi fumetti il prezzo di questi fumetti andiamo subito a leggere e dovrebbe essere di 5 dollari e 99 che però probabilmente convertiti in euro equivalgono a 6 euro infatti tutti i fumetti costeranno in media 6 euro mentre se compriamo quello con copertina flessibile e carte da gioco il prezzo sui 6,99 quindi saremo ai 7 euro quindi appunto potremo comprare quello normale per 6 euro mentre la versione con le carte da gioco da 7 euro andiamo subito a vedere i teaser che conosciamo riguardanti questi fumetti appunto come state vedendo dalle immagini che stanno apparendo qui a schermo queste per ora sono le prime pagine dei fumetti che siamo a conoscenza infatti queste pagine come vedete saranno in bianco e nero e verranno appunto resi disponibili il 20 aprile faccio sbloccare queste skin come vedete possiamo già intravedere alcune skin di fornite tra cui harley queen e comunque anche la versione di batman per ora queste cose sono le uniche pagine ufficiali che conosciamo tutte appunto del primo fumetto infatti come vedete Donald Monster ha aggiornato il suo profilo con l'immagine di batman infatti come vedete queste qua però sono le copertine che siamo a conoscenza infatti queste qua saranno il fronte e il retro del primo fumetto che verrà appunto resi disponibile il primo aprile e a seguire anche tutti gli altri fumetti quindi dopo che avete visto da questo video sbloccare queste skin è molto molto semplice dovremmo semplicemente acquistare appunto questi due fumetti che in realtà sono una serie composta da 6 fumetti per poter sbloccare appunto la skin batman.0 e la skin harley queen rinata quindi però ancora molto molto conveniente perché se consideriamo che la skin di harley queen una volta uscita costava 15 euro e 99 ovvero 1500 vbag è comunque una grande offerta che euro equivalgono a 600 vbag mentre appunto la skin di harley queen inizialmente costava 1500 quindi possiamo dire che è un grandissimo acquisto appunto questi fumetti finiranno più o meno verso fine giugno quindi avremo ancora tantissimi mesi di tempo per acquistare queste skin e infine per sbloccare la skin di batman.0 dovremo semplicemente acquistare tutti i 6 fumetti e inserire tutti i codici all'interno di epigames.com proprio come ho contuso le altre mimetiche che abbiamo potuto sbloccare con il corso dei giorni e il corso dei mesi all'interno del negozio di fornit quindi appunto una collaborazione molto 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 carina di fornit per batman infatti all'interno di fornit questi fumetti non si potranno leggere come nella stagione 3 ma saranno solo risuovamente cartacei da poter acquistare esternamente a fornit comunque sembrano delle storie molto 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 carine prima di aspettarci per il modico prezzo di 6 euro quelle standard e 7 euro con il gioco cartaceo per farci sbloccare appunto due skin infatti in YouTube più o meno 6 per 7 costranno 42 euro e appunto con 42 euro potremo ottenere gratuitamente la skin di Harley Quinn rinata e la skin di batman.0 quindi dato questo video ci seguitevi una qua se volete lasciatevi un baciuto e iscrivetevi a questo canale attivando la campanella delle notifiche lasciate un bel mi piace e venite nelle mie live che saranno un sabato all'ora 20 all'ora 21 se volete appunto vincere anche voi skin o pass battaglia detto questo ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao